Ciao a tutti, sono Matteo Zanini e ho un sogno, quello di vivere della mia penna. Mi rendo conto che probabilmente resterà un sogno, ma da anni, oramai, mi impegno affinché le mie storie possano alietare i cuori dei miei lettori. Io lancio dei piccoli semi e guardo poi la terra nella speranza di veder germogliare piante nuove. Oggi, grazie alla biblioteca di Bonate Sopra e a Cristiano, il bibliotecario, sono qui con questo breve video per presentarvi il romanzo che poi conoscerete dal vivo durante il Festival Literario che prossimamente avrà luogo. Si tratta della mia ultima creatura, del mio ultimo bimbo di carta, ovvero Katrin. Katrin, edito Literary Romance, è un romanzo di formazione regency, ovvero ambientato nell'Inghilterra della Regenza, che prende spunto dai classici della letteratura inglese, che personalmente sono i miei preferiti, e, insomma, intende trasportare il lettore all'interno di un mondo fatto di balli, buone maniere, tazze di tè, passeggiate nelle brughiere, nelle campagne, ma non soltanto. Difatti, Katrin è un vero e proprio romanzo di formazione, quindi noi lettori, nell'incominciare questa storia e nell'andare avanti pagina dopo pagina, cresceremo proprio come la stessa protagonista, Katrin, per l'appunto Katrin Olson, farà. Katrin parte da una situazione assolutamente sfavorevole. Sebbene, infatti, sia una fanciulla abbiente, abbastanza ambiente, la sua condizione familiare non è delle migliori e il suo desiderio più grande è quello di costruirsi una propria libertà, un proprio percorso. Fatica. Lei, le sue sorelle, la governante, tutti faticano a vivere in quella casa, a Parkley, finché un giorno, a causa di un tragico evento, che sconvolgerà tutti gli equilibri preesistenti, Katrin troverà il coraggio di fuggire. Fuggirà e comincerà a scontrarsi con il mondo, con gli errori, con le scelte, con gli sbagli, con la propria idea di vita e vivrà tutta una serie di peripezie, viaggi, incontri, sfiderà se stessa, sfiderà il maschile, sfiderà la sua famiglia e alla fine, forse, riuscirà a trovare la propria scia splendente e a viverla. Katrin è un romanzo che ho amato scrivere proprio perché ci racconta che non importa dal punto di vista del destino il nostro incipit, ma è il percorso che fa di noi le persone che poi diventiamo, insomma, le persone che maturano, che crescono e che portano avanti i propri obiettivi. E ogni tanto anche qualche sogno da far uscire, insomma, da far uscire in libertà dai cassetti e dalle pagine. Katrin è disponibile per gli amanti del profumo della carta in versione cartacea, come quella che sto accarezzando io, e invece per coloro che invece sono più affini al mondo digitale e alla tecnologia esiste anche la versione e-book. Come vi dicevo, è edito dalla casa editrice Literary Romance e io sono Matteo Zanini. Mi trovate sui social se avete voglia di seguirmi e seguire il mio percorso di carta e inchiostro, le mie letture, la mia scrittura, oppure sul mio blog www.matteozanini.it Grazie per l'attenzione e ci vediamo presto!